Vede le maglie del Napoli più scure, l'Underlecht ha i calzoncini viola e maglia bianca. Ecco inquadrato Rensenbrink appunto, l'olandese subito in questa partita che si preannuncia d'attacco. La formazione del Napoli, Carmignani, La Palma va va... Anticipo di La Palma, fermato... Manda al centro un pallone Catellan, cala la palla di testa Giuliano, la rilancia in avanti Catellani, la rimette ancora in avanti Van Dendeele. A beneficio di Van Dendeele. Il lancio di Van Dendeele su Rensenbrink. Rensenbrink in lotta con Catellani. Adesso è Aan, cross di Aan. Lancio su Rensenbrink. Prima ostacolare. Dissen salta su massa. Catellani... Rensenbrink ha mandato al centro un pallone, l'ha messo fuori area a Campanile. Certino Van Dendeele. Rensenbrink indietro ancora a Van Dendeele. Ecco il cross di Van Dendeele. Rilancia in avanti Aan, fuori gioco. Rensenbrink, spinto alle spalle da Catellani. Calcio di munizione in favore del Belgio. Van Dendeele. Rensenbrink si è spostato a destra, seguito come un'ombra da Catellani. Rensenbrink. Rilancia il colpo di destra di Burnic. Allunga subito il colpo di destra di Rensenbrink. Juliano mette fuori area. Rensenbrink. La palma. Catellani. Juliano. Riconquista la palla. Dox. Dissen. Dox. Cambio con Rensenbrink. Alla sinistra. Dox. Poi manda al centro. perde la palla a Juliano. Punizione dai belgi che vengono in avanti con questo colpo di testa di Rensenbendeele. Colpo di testa di Catellani. Quello dell'andata. Abbiamo visto né in occasione del palo colpito da Esposito, né in occasione del colpo di testa di Rensenbendeele. Colpo di testa di Rensenbendeele. Ha tirato Ressel. Colpo di testa di Minaziani. Nuovo cross. Nuovo cross di Rensenbrink. E Banderele. Su Stavoldi. Ha liberato Tissen. Rensenbrink. Lancio su Dox. Fermato da Burgni. Ha spiato il suo gol di Tissen del primo tempo al trentesimo con questo. Rensenbrink. Urnice. La palma. Scatta Rensenbrink. Bell'intervento di Catellani. Haan. Anticipato da Burgni. Scatto in progressione di Rensenbrink. Sulla palla Rensenbrink. La palla colpisce la barriera. Scattano Massa e Rensenbrink. Cari che lo schiacciavano. Calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Ressel. Vanderelt. Vanderelt. La palma. Kök. Annone. Burgni c'è rinvia corto. Rensenbrink. L'ha capito. C'è libero Ressel solo in area. Rensenbrink. 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 Colpo di testa di Burgni. Ancora la palma. Ferma Dock. No, poteva rilanciare lungo. Era l'ultima speranza. Il tempo sta scadendo. Coppe alla soglia della finale. E' battuto di misura dall'Anderlecht. Due a due.